Chi è Laura, la moglie di Vasco Rossi? A casa trovo tre biondine e lei. Il suo nome è Laura Schmidt ed è la moglie di Vasco Rossi, nata a Milano ma da padre tedesco, proveniente da Reitis Bona, la donna ha 17 anni in meno rispetto al cantante, e, nonostante i due portino avanti la loro storia d'amore da oltre 30 anni, Laura ha sempre preferito restare lontana dai riflettori, per preservare la sua privacy e, al contempo, quella della sua famiglia. Vasco e Laura, quel primo incontro indimenticabile dal primo incontro tra i due, avvenuto nel 1986, non si sarebbe mai detto che Laura Schmidt sarebbe poi diventata la moglie di Vasco Rossi. È stato lo stesso cantante a raccontarne le circostanze in un'intervista rilasciata a Venity Fair. Ero arrivato nella casa che affittavo a Riccione alle 2, 3 del mattino per andare a dormire. Ci trovo Massimo Riva, che ospitavo con tre biondine, una più carina dell'altra, con le minigonne fin qua, una di loro, appena mi ha visto è impazzita, ah, tu sei Vasco Rossi, mentre la Laura, che non mi conosceva per niente e che era ubriaca marcia, ha cominciato a insultarmi da Esti Arnzetta, ma chi ti credi di essere? Ha raccontato il cantante. Poi qualcosa è scattato e ha fatto sì che, nel giro di poco tempo, Laura Schmidt diventasse, ancora prima che la moglie di Vasco Rossi, la sua compagna stabile. I due, infatti, decisero di rivedersi poco dopo quell'episodio e intrapresero una stabile e duratura relazione. Nonostante lui avesse 34 anni e lei solo 17. Nonostante, in quello stesso anno, il cantante fosse diventato padre di due figli, Davide e Lorenzo, avuti da due donne differenti, la Schmidt lo portò in poco tempo a mettere la testa a posto e da allora i due sono inseparabili. Nel 1991 è nato il primo figlio della coppia, Luca, e il 7 luglio 2012 sono state celebrate le nozze a Zocca, in municipio. Grazie a tutti, grazie a tutti.